Per il lettore di Azzieta Informa Gianfranco Giuliani, presidente tua, presidente di un momento così complesso dal punto di vista sociale, ecco una notizia che davvero fa rumore perché tu assume e quindi quali sono le prospettive per questo aspetto? Sì, come dicevi si vive in un momento particolare di crisi aziendale non solo in Abruzzo ma in tutta Italia e la tua, il trasporto pubblico della regione Abruzzo, incontro della trentenza annuncia 127 assunzioni, gran parte delle quali fanno riferimento a detti di esercizio, quindi autisti, parte del personale sarà invece amministrativo e poi ci saranno dei tecnici specialistici che nel piano strategico prossimo ventura della turva avranno delle funzioni che saranno utili proprio a questa rivoluzione che sul trasporto la turva sta mettendo in piedi. I concorsi saranno inevitabilmente concorsi pubblici, si svilupperanno in termini di tempistica nell'arco breve di 14 mesi e in questo tempo ci saranno tutti persone accompagnate da una formazione specifica che terrà conto anche di quelle che sono state le problematiche emerse durante la pandemia.